Fulmine a ciel sereno stamane al Palazzo di Città di Riposto, anche se già da tempo il temporale si avvertiva nell'aria. Il sindaco Enzo Caragliano ha revocato dall'incarico l'assessore alla cultura e alla pubblica istruzione Gianfranco Pappalardo Fiumara, che ha accompagnato l'amministrazione Caragliano da quando si è insediata nel 2013. Ai nostri microfoni il commento del primo cittadino di Riposto, che ha spiegato i motivi di questa scelta a pochi mesi dalle amministrative. È giusto dare una giustificazione e soprattutto un significato. La revoca sorge da un fatto che negli ultimi tempi c'è stato uno scollamento tra il mio assessore e l'Aggiunta, che è un organo collegiale, quando si prende una divisione unanime, quando si prende un percorso insieme, un percorso già tracciato e già fatto al 90% per cinque anni, in cui abbiamo detto il tipo di amministrazione che intendiamo fare, alla collettività, abbiamo avuto una larga messa di consenze. Non si può poi incominciare a camminare a briglia sciolta in contrasto con quello che l'organo collegiale decide o mette in essere. E credo che è giusto, anche e soprattutto dall'esternazione che abbiamo letto in giro, perché non è che nasce a caso, credo che tutti abbiamo letto che l'assessore anche voleva esprimere il suo parere, anche da libero cittadino, che è giustissimo la democrazia, è quella che io accetto. Ho detto sempre che se le regole non vengono rispettate salta tutto e quindi non ci può essere più democrazia. E quindi l'ho lasciato libero, soprattutto di intraprendere, senza oneri amministrati che lo tengono legato all'ente, di mettere in atto il suo pensiero e liberamente poter crescere, sia nella politica che intende attuare, ma soprattutto nel ringraziarlo per quello che ha saputo dare insieme a me di concetto alla cittadinanza, nella crescita culturale, nell'immagine, nello sviluppo di riposto. Quindi nel ringraziarlo, allo stesso tempo lo lascio libero di poter intraprendere quei percorsi che lui crede che siano più opportuni per la sua crescita politica e soprattutto in quello che lui vorrà dare alla nostra cittadinanza. Con questo, sul piano umano, lui sa benissimo che abbiamo fatto un bel percorso, la politica a volte può anche avere delle dieve differenziazioni, ma che diventano importanti. In questo periodo, che poi è un periodo delicato perché a pochi mesi dalle elezioni, è stato individuato un sostituto all'assessore Pappalardo? È chiaro che io sono uno di quelli che guarda attorno, vede quelle sono le necessità per la mia città e mi muovo di conseguenza. Per adesso ci sono io e credo che basta.